Cazzo, dai! Cazzo! Oh, le manganellate! Canculo, vi sto riprendendo tutti, tutti! Tutti vi sto riprendendo, tutti! Guarda un ragazzo che voleva fare semplicemente un'azione pacifica, guarda come è stato bloccato dalle france dell'ordine, guarda, guarda! Assassini siete, voi primi siete! Assassini! Fate male alle donne, ci avete manganellato! Alle donne ci avete manganellato, guarda qua! Alle donne avete presa manganellate! Questo signore è qua, questo, questo signore! Vai, vai, tanto ho ripreso tutto, vai, vai, io ho ripreso tutto! Vai, vai, che vi riprendo, vai, che vi riprendo tutto! Vai, che vi riprendo tutto!